Se non trattata, l'osteoporosi rende le tue ossa fragili come la porcellana. Il claim del piatto forte è la campagna di sensibilizzazione e di screening che approderà dal 24 al 29 giugno anche in Abruzzo e Molise, promossa dalla Fondazione Italia Ricerca sulle malattie dell'osso in collaborazione con Amgen, Ecolite, Senior Italia Federanziani, con il patrocinio delle regioni Abruzzo e Molise e della Società Italiana Medicina Generale. Sono previsti eventi di uno o due giorni nelle piazze delle principali città abruzzesi e molisane dove saranno collocati un gazebo e un camper che coinvolgeranno la popolazione in diverse attività. Informazione e prevenzione grazie alla presenza di medici, specialisti e nutrizionisti che risponderanno alle domande dei cittadini e alla distribuzione di materiale educazionale, screening mediante la compilazione di un questionario e con la valutazione gratuita del rischio di frattura attraverso la misurazione della densità minerale ossea da parte di personale specializzato. A bordo del camper sarà utilizzato un innovativo dispositivo sviluppato da Ecolite, azienda fondata da Sergio Casciaro, il primo sistema per la diagnosi precoce dell'osteoporosi attraverso un semplice esame ecografico, rapido e accurato e senza l'utilizzo di radiazioni ionizzanti. Si stima che in Abruzzo e Molise 200.000 donne over 60 siano a rischio di fratture da fragilità, conseguenza di osteoporosi non trattata. In Abruzzo nel 2018 sono stati 1.541 i ricoveri per osteoporosi, con una media di 13 giorni per ciascuna degenza in ospedale, come è stato ricordato a Pescara in occasione della presentazione dell'iniziativa. Le fratture da fragilità e rischio di eventuali rifratture possono essere evitate con un'adeguata prevenzione e se serve con un trattamento farmacologico tempestivo poiché hanno rilevanti conseguenze sia in termini di mortalità che di disabilità motoria con elevati costi sia sanitari che sociali.